ehi mango fermi non vi muovete rimanete là è arrivata mezzanotti ehi alzatevi immediatamente che dobbiamo passeggiare il bambinello e lo devi portare tu tu scendi dalle stelle ore del cielo cammina muerto almeno e vieni in una grotta gira qua gira in cucina gira in cucina freddo e al gelo oh bambino gira in camera da letto gira in camera da letto oh dio beato entra nel bagno dai che abbiamo finito ma è chiusa la porta non fa niente apri tutta la dobbiamo fare a casa mamma che stai facendo noi stiamo passeggiando il bambinello e lui stai accendendo il bambinello ma io ti ho disiiminitato e lui staiaccendo il bambinello